Italia, dopo molto tempo, ritorna al circuito. Volevo vendere il tutto le mani al cielo per dare il benvenuto al nuovo animato. Volevo vendere il tutto le mani al cielo per dare il benvenuto al nuovo animato. Volevo vendere il tutto le mani al cielo per dare il benvenuto al nuovo animato. Volevo vendere il tutto le mani al cielo per dare il benvenuto al nuovo animato. Volevo vendere il tutto le mani al cielo per dare il benvenuto al nuovo animato. Volevo vendere il tutto le mani al cielo per dare il benvenuto al nuovo animato. Volevo vendere il tutto le mani al sole per dare il benvenuto al nuovo animato. Volevo vendere il tutto le mani al nuovo animato. Volevo vendere il tutto le mani albero fatto dare il bel benvenuto al nuovo animato. Grazie a tutti.